Il progetto Porta Argentario, che riunisce 15 comuni toscani e l'autorità portuale, ha ottenuto il riconoscimento di Best Italian Cruise Destination 2019, miglior destinazione croceristica italiana. Il premio, assegnato ogni anno dalla CLIA, l'associazione che riunisce le principali compagnie del settore, è stato illustrato in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze alla presenza dell'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo. Il lavoro straordinario credo sia stato questo, far sì che i croceristi avessero a disposizione strutture, attrezzature, mete e destinazioni di viaggio rilevanti in una narrazione che mette la Toscana tutta a disposizione dei turisti. Il riconoscimento ottenuto da Porta Argentario premia anche la volontà dei promotori del progetto di valorizzare non soltanto la costa, dove nel 2019 hanno fatto scalo 20 navi da crociera medio piccole e 150 superiott, ma anche l'entroterra, la Maremma fino al Senese. La nautica è uno di quei settori che portano altissimo valore aggiunto e che ci piace pensare che dall'arrivo, dall'approdo a Monta Argentario poi visitano tutta l'entroterra della costa, della parte vicina alla costa. Quindi la nautica è un ulteriore modo di diversificare sia la qualità dei turisti che arrivano e sia la fruibilità dalla costa verso l'interno. Tutto grazie agli investimenti fatti in un territorio che si conferma un crocevia di interesse crescente nel Mediterraneo per il turismo nautico. Siamo l'unico comune d'Italia che ha tre porti, uno di Porto Santo Stefano gestito dalla regione toscana con l'autorità portuale, uno di Porto Ercole gestito direttamente dal comune e uno privato importante di Cara Galera gestito dai privati. Complessivamente abbiamo circa 4.000 posti barca e quindi la nautica per noi rappresenta un elemento essenziale nella nostra economia e nel nostro sviluppo futuro. Grazie. 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 Grazie.